Supervisor International Activities del gruppo Marcegaglia. Voi siete presenti in Russia già da diverso tempo. Cosa ci vuol dire della vostra esperienza in questo paese? Noi siamo presenti in Russia dal 2010 con una joint venture con il nostro cliente italiano e con la partecipazione anche di SIGNEST. Quindi siamo in Russia dal 2010. La nostra esperienza è stata assolutamente positiva. I maggiori problemi sono stati all'inizio con il personale per far riuscire a capire la nostra mentalità ma una volta che anche i nostri colleghi russi hanno capito il nostro modo di gestire l'azienda e lo studio di gestione Marcegaglia non ci sono stati problemi e direi che negli ultimi anni stiamo riscontrando diverse soddisfazioni. Ecco, parliamo anche di quello che può essere un consiglio da dare agli imprenditori. Cosa si sente di dire a chi ha intenzione vuole andare in Russia però magari ancora un attimino titubando in corso di Russia? Ma sicuramente oggi il governo russo sta incentivando molto la produzione locale. All'inizio come aziende italiane a volte si è visto non proprio come un'azienda russa. Oggi diciamo che questa cosa dopo 3-4 anni di nostra presenza in Russia negli ultimi 3-4 anni è molto migliorata. Stiamo facendo anche un'azione di dante in comune come azienda russa che lavora sul territorio russo. Noi siamo russi e lavoriamo per la Russia. La nostra azienda, la nostra politica di internazionalizzazione, noi siamo andati in Russia per produrre per il mercato russo. Noi puoi diciamo tubi, in particolare tubi di acione inossidabile per il mercato russo. E oggi direi che se uno vuole andare in Russia e vuole affrontare la sfida di un mercato sicuramente molto citato e che può dare grandi soddisfazioni. La cosa è affrontarla con le dovute cautele come si affronta qualsiasi intervento di investimento all'estero essendo sicuri, avendo un business plan ben preparato sapendo di aver fatto un'analisi del mercato che si vuole affrontare nel proprio settore specifico in modo accurato e approfondito e di appoggiarsi a quelle che sono le istituzioni come la Camera di Commercio Italo-Russa e Simes piuttosto che ICE, piuttosto che le nostre istituzioni governative che sicuramente possono dare un appoggio importante e aiutare in questo senso. Grazie.